Oggi con Romano Reggiani Salve salve Che dopo presenteremo insomma più specificatamente Siamo io, Francesca Linovi e Paolo Roberto Pianezza Love Seek Duo E questo è un programma che abbiamo iniziato appunto all'inizio del 2017 Giustamente Marta è sempre stata con noi e la salutiamo E' un programma che facciamo settimanalmente E si chiama I Run Love Seek Duo Proprio perché ci riguarda, riguarda tutto quello che è ruota intorno a noi Noi condividiamo la diretta, vai Romano Sì, sono un po' spastico con i telefonini ma ce la faccio E quindi si parla di musica, si suona Ma diciamo che si parla anche un po' di tutto quello che ci circonda Quindi soprattutto le persone che sono le cose più vicine a quello che abbiamo Oltre la musica Come sei profonda Hai visto? Persone che suonano, cantano Non l'hai fatta Romano, com'è? Ho condiviso! Sì, condividete anche voi da casa Fateci sapere da dove state guardando la diretta, scrivetelo nei commenti Intanto vediamo che appaiono un po' di amici che stanno guardando Buona giornata Oggi la facciamo di mattina Infatti c'è tutta questa luce che entra e beviamo un caffettino di questi beveroni Bene, condividete Romano Romano, quanti anni hai? 24 24 Ne dimostro meno E di dove sei? Di Bologna Bolognese Sei bolognese doc? Sono bolognese doc So c'è ragazzi Benissimo Dai raccontaci un po' della recitazione, cosa hai fatto Facci un po' di bio Una breve bio Io sono Romano Reggiani, vengo da Bologna, ho 24 anni Ho frequentato il centro sperimentale di cinematografia Che è la scuola nazionale di cinema Cioè quindi tu praticamente già quando eri piccolo hai detto Vabbè dai io so già cosa voglio fare Una grande dote Ragazzi mi è venuta un'idea bellissima Che cosa? Aspetta Romano, facciamo così Devi fare la tua bio Sì Drammatica Ok Però aspetta Facciamo anche Testiamolo subito Assolutamente Quando sono nato avevo già 24 anni E la cosa che mi ha molto stupito era che non sapevo fare un cazzo Mio padre mi picchiava, mia mamma pure Quindi mi sono dovuto trovare a prendere delle scelte Sono state delle scelte molto difficili perché sai trovarsi a spacciare in giro per due spicci Ma no Ok si è chiusa qui Si è chiusa da qui Guarda, guarda E poi sono diventato attore E da lì è cambiato tutto nel senso è stato molto divertente perché il mio primo film con Luca Zingaretti mi sono trovato bene Tempo instabile Con probabili schiarite E sono caduto in depressione Sono morto Dentro, dentro E ho deciso di fare un disco Ho deciso di fare un disco E da lì insomma è tutto cambiato È tutto difficile Comunque no, sono una buona persona Io non mi drogo, non spaccio, faccio il mio lavoro e basta Avrei continuato ma ero molto scomodo Quindi dai, il tuo lavoro ufficiale Si Possiamo dire È l'attore, lavoro come attore Adesso sono in diretta su Rai Vabbè adesso sono in diretta su Facebook E no, invece da lunedì c'è la seconda puntata di Scomparsa Che è una serie di Rai 1 diretta da Fabrizio Costa Con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno E poi ci sono anch'io che rovino tutto Quindi non ci sei scomparsa, vabbè Ah, cavolo, bella, ti metto nelle battute Nel copione Nel copione Fenomenale, dice Marta No, allora, Romano è davvero un attore straordinario Noi non l'abbiamo ancora visto recitare Ma ci crediamo sulla parola Fate male Abbiamo anche detto che scaricheremo il tuo nuovo film O lo guarderemo in streaming Non scaricate, per favore Rubate se scaricate Non guardate i streaming È illegale Vabbè, siamo partiti così oggi, ragazzi Io ho un annuncio da fare così Proprio tipo pubblicitario È una vera pubblicità Lo facciamo oggi tipo ogni tanto Stasera Stasera Noi facciamo questo concerto Io e Francesca Senza Romano Però Romano potresti fare il sottofondo tuo adesso Con l'armonica Fai un po' di sottofondo Facciamo questa pubblicità Lo spot all'inizio così Stasera Alle 21 Alle ore 21 Al Teatro degli Angeli In via Traviarno E via Massa Carrara Zona San Lazzaro Bologna Andate a vedere C'è questo concerto che facciamo con 40 posti Siamo quasi al sold out Quindi ora che siamo in diretta Mi raccomando Prenotate C'è un video sotto Col numero di telefono Lo trovate C'è l'evento Teatro degli Angeli Potete prenotare il posto E registreremo stasera audio e video di tutto il concerto Quindi fatelo E mi sa che anche Romano viene Hai detto Sì, io se riesco vengo Anzi, devo venire Anche perché devo rovinare tutto Nel senso Devo interrompere Distruggere le cose Beh, però potresti presentarci, no? Visto la tua figura di attore Visto che ci conosci Esatto Mi presenta adesso Eccoli I love sick duo Ecco Allora qui salutano Alberto Vianelli Ti saluta grande Romano Un saluto Eh Alberto, cazzo Che cazzo stai guardando? Basta Siamo ancora in fascia protetta Romano Fascia protetta Allora ci vediamo dopo mezzanotte Allora Romano dovete sapere Che noi l'abbiamo conosciuto Nei bassi fondi di Bologna Proprio bassi Proprio bassi Perché eravamo sottoterra C'era Esatto Un grande circolo culturale Grande ma piccolo Nel senso grande Perché ha ospitato tantissimi musicisti Non solo bolognesi Non solo italiani Ma un grande piccolo Perché era sottoterra Era uno spichisi, no? Raccontaci Era Cioè Adesso noi Purtroppo abbiamo avuto Dei problemi con la proprietà Ci dobbiamo Stiamo cambiando sede E quindi Adesso siamo in fase di pausa Dobbiamo cercare dal nuovo anno Una nuova sede Per sopravvivere Nel senso È così È la vita Era un'associazione culturale Che si chiama John Wesley Harding Che è ancora attiva E noi speriamo di ripartire da febbraio Speriamo di avere dei buoni contatti Ed è un club privato Dove si suona musica, folk, blues Di tutti i generi Diciamo Un po' di jazz Un po' di tutto Ed è particolare Perché era stato il primo spichisi di Bologna E l'ha ideato Romano Reggiani Chi è? No è uno che aveva un ideale Ma perché gli attori parlano sempre in terza persona Di loro stessi? Perché loro sono sempre altri personaggi Esatto Io ormai vivo in una vita parallela Non sono più io Ecco E quindi tu eri ideatore Sì Direttore artistico Musicista E pure Barista Insomma facevi tutto Facevo le pulizie Tutto Presidente Presidente Quindi legalmente molto flebile Non mi denunciate No davvero Romano è stato così È comparso all'improvviso Giovanissimo Perché poi ha 23 anni Insomma uno Vabbè l'anno scorso ne aveva 23 Sì 23 anni Insomma ha iniziato Ha detto io voglio fare un circolo Perché sono stato a Londra Ho visto questo spichisi Mi piaceva molto l'idea E noi ci siamo conosciuti lì Abbiamo avuto la fortuna Di suonare diverse volte Con diversi progetti Di conoscere anche Insomma tanti musicisti Ed era molto bello Perché era molto intimo No? È stato bello perché Si è creata un'atmosfera Molto 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 lovely Non so come dire Ma anche familiare In qualche modo Molto familiare Eravano tutti amici Anche quei musicisti Abbiamo Abbiamo creato dei buonissimi rapporti Che comunque Io sto portando fuori Di fuori Dell'associazione Infatti sono qui Infatti siamo qui Bellissimo Ma ovviamente la domanda Viene un po' da sé Perché John Wesley Harding? Beh John Wesley Harding Oltre a essere un Fottutissimo Fuorilegge È anche un album Di Bob Dylan Che insomma Io adoro Ed è un album Stratosferico E tu sei Non è che sei un fan Sei un vero malato Di Bob Dylan Io sono un po' malato Sì ho il problema Di Bob Dylan Sì lo sogno proprio Ha una malattia Ma quindi Dai era bello Perché Chi entrava Doveva rispondere A una parola d'ordine Una parola d'ordine Che diciamo Era sempre a tema musicale Più o meno E niente Ogni settimana cambiava Cambia E non so E quindi la gente Veniva lì Rispondeva E se non rispondeva Stava fuori Più o meno Più o meno Dai eravate flessibili Qua scrivono Buongiorno amici Attendiamo La rinascita De John Wesley Harding E tanta merda 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 Per tutti Grazie Chi è grazie Filippo Filippo Bernandi Che è anche condiviso Grandissimo Ti mandiamo un bacione Un abbraccio È un beggioista Chitarrista Veterinario Veterinario Io sono un cane Sono un cane Curami Salutiamo tutti i ragazzi Luca Fattore Grandi Romano Giovanni Betto Grande Ci seguono quindi Un po' da Vi ringraziamo Perché ci seguite Un po' da tutta Italia E noi siamo qui Non solo perché Romano Insomma adesso Presenterà poi Magari meglio Il suo percorso D'attore Ma anche perché Insomma Ha scritto Ha inciso un disco Esatto Non so Dici un po' Mi hanno prodotto Questo Diciamo che Quando sono stato a Roma Ho vissuto a Roma Quattro anni e mezzo Ho finito il centro sperimentale Di cinematografia E stando là È successo che è nato Questo progetto Casualmente Perché per me Suonare la chitarra È sempre stata una passione Quindi suonavo in caso Ho scritto dei pezzi Però poi ho detto Senti Intanto Cosa me ne frega Adesso li incido a caso Ne incido uno a caso Col telefonino E vado in giro E lo faccio sentire Poi vediamo E allora Però è successo Che la gente Ce l'ho fatto sentire Un po' di persone Anche nel mio ambiente Ma senza dire che ero io Ho detto Sei sentito sto pezzo Che figo Un paraculo di merda Allora E però a un certo punto Uno mi fa No ma questo l'ho già sentito È bello Ma chi è questo Allora ho detto Scusami ma Se la gente Pensa che sia vero Allora perché Non provare a farci qualcosa Allora è successo Che poi mi hanno prodotto L'album qua a Bologna L'Underground Music Studio Che poi è diventato Il mio batterista Francesco Guaraldi Che lo saluto Ciao Francesco E così insomma Da lì poi è nato Un progetto Che anche con il mio lavoro Si sta espandendo Nel senso che adesso A marzo Stanno organizzando Un mini tour E una distribuzione Insomma In tutta Italia Quindi Un pochino le cosine Si muovono No no È una cosa Una cosa bella Anche perché Di nicchia Ma fatta bene Poi C'è gente che mi segue Col mio lavoro E quindi è una cosa bella Bene Poi è sempre bello Avere un album In the pocket Esatto C'è anche il mio disco Esatto Allora visto che è tarda mattina E visto che parliamo di musica Io direi di fare un pezzo Di suonare un brano Non vi suono Blowing in the wind Che l'ho scritta Due o tre anni fa Ne suono un'altra Chiedono anche di fare un pezzo Di Johnny Cash Eh sì Io Oggi non so se riusciremo Ragazzi Johnny Cash Se volete Adesso io non so Michele Scott Non so dove tu abiti Comunque I primi di dicembre Mercoledì Il primo mercoledì di dicembre Io e Paolo E un altro ragazzo Chiamato Andrea Fai Dutti Facciamo questo concerto Al cortile caffè Di Bologna Una serata dedicata A Johnny Cash Contro Elvis No? Quindi ci saranno Così Canzoni Beh ci sta In confronto Di chi interpreta Johnny Cash E chi interpreta Elvis Johnny Cash Però oggi abbiamo il disco Di Michele Scott A Bolzano Insomma Bolzano Non è proprio vicino Ma potremmo farti una diretta Dai magari Adesso facciamo Un brano del suo disco Ma come si chiama questo disco? Time is a time Il tempo è un tempo È tutto Grazie Grazie per la traduzione È tutto Incentrato su Su Diciamo Il mio concetto di tempo Ma perché per me Il tempo È un po' come Dio Nel senso Cioè Uno può viverlo In modo diverso Però molte volte Il tempo è come nella musica Cioè può essere lento Può essere veloce Però passa Il problema è quello Bene If the time was real That day would be black Like my t-shirt size girl People change unfreely Without success Without liberty Without power Without Without choice I really We can't stop to hear There isn't Sound anymore I listen Noises like We can listen Our song Without fear Without Without limit Without breaks Without No heart fillings Viren Noises Like Of Grazie a tutti 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 Tu devi rispondere Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Libro Grazie a tutti 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 Ehm... Ehm... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ehm... Ehm... Grazie a tutti Ehm... Ehm... Grazie a tutti Ehm... Ehm... Volevo ricordare che Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ehm... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ehm... 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 Grazie a tutti Ehm... Grazie a tutti Ehm... 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 Grazie a tutti Ehm... 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 Ehm...